Nicoletta Corradini, responsabile One Billion Rising Italia, quali sono le novità di quest'anno? Vogliamo fare un bilancio dell'ultimo One Billion? Sì, One Billion Rising, quest'anno ha voluto cambiamenti, dopo aver danzato per la giustizia, quest'anno abbiamo chiesto rivoluzione, ma la rivoluzione è partita dalla vita quotidiana delle donne, degli uomini e quindi una rivoluzione è appunto in piccola scala che si potrebbe, che desideriamo si allarghi alla giustizia appunto e a una visione della donna nel mondo politico, nel mondo del lavoro, che sia veramente un cambiamento forte. Le novità di quest'anno secondo me è stata la partecipazione delle scuole già molti mesi prima, quindi studenti, ragazzi giovanissimi, diciamo anche dagli asili nido, comunque hanno affrontato il problema dell'identità femminile, del rispetto e hanno portato poi nelle piazze la gioia degli studenti, che sono inventati attraverso l'arte, poster, fantasia, un modo gioioso di partecipare a questo evento, che è già il terzo anno, che porta nelle piazze più di 200.000 persone in una stessa giornata, che è il giorno di San Valentino, dove come abbiamo sempre detto non si celebra solo l'amore della coppia, ma il rispetto di se stessi e ogni persona porta appunto in un luogo pubblico, sul posto di lavoro, la propria voglia di dire ci sono contro questo problema, che è un problema sappiamo ormai sociale, che si ripercuote a livello economico, eccetera, su tutti gli aspetti della vita quotidiana. V-Day 2015 a Modena, proietterete appunto degli stralci di questa manifestazione, puoi spiegarmi di più? Sì, il V-Day, quindi i monologhi della vagina, fanno parte di questa più larga campagna ideata dai Wensler, e quindi faremo vedere sia il primo video, proprio il primo video girato in tutto il mondo, tra cui molte scene anche nel nostro centro storico di Modena, con le nostre ragazze attiviste, dove promuovevamo la prima campagna, dove invitavamo la gente a ballare, questa sfida abbastanza particolare contro invece la chiusura del dolore delle donne che sono vittima di invece portare energia nelle strade. Questo è il primo video che comunque riproponiamo, perché ha veramente un messaggio molto forte, dove si parla di violenza psicologica, violenza sul lavoro, violenza economica e anche violenza fisica, che è quella più evidente, però insomma non è l'unico tipologia appunto di oppressione, insomma, sulle donne. E poi abbiamo, e ci siamo divertiti a raccogliere dalle 150 piazze di tutta Italia, piccoli frammenti appunto di questo evento, dove non si è solo ballato, ma si sono letti testi riguardo all'argomento, testi di Wensler e non solo, dove gli uomini hanno preso il microfono e davanti a un pubblico di tutte le età, eccetera, appunto hanno recitato la preghiera di un uomo, che riproponeremo anche nelle giornate dei monologhi, e quindi sì, è stato un evento più allargato, diciamo, che solo cantare il nostro spezzare le catene. Questo comunque sarà il ballo finale, dove appunto in modo gioioso facciamo, insomma, prendiamo consapevolezza del nostro corpo e salutiamo i monologhi, i testi, e raccogliamo tutta l'energia per darla al pubblico e continuare in questa campagna, che ritengo molto importante e particolare, perché arriva ad ogni livello, appunto, dai bambini alle coppie, alla società intera, davvero. Cecilia Camellini, questa partecipazione al V-Day 2015, al Reading di Modena, come mai? Ma è stato tutto una cosa un po' improvvisata, perché mi è stato chiesto da persone che conosco, insomma, che mi hanno detto, dai, vuoi partecipare a questa cosa? E subito non avevo quasi idea, ho detto, ma guardate che io nuoto, non recito, non c'è problema, stai tranquilla, quando mi ha spiegato per il tema, così, ho detto ci sto, perché, insomma, a me piace comunque partecipare a qualcosa anche un po' di diverso, che comunque rimanga su certi temi, quindi, quindi sì, è stata un po' un'improvvisata, spero che vada tutto bene. C'è una tua sensibilità personale o particolare rispetto alla violenza, alla discriminazione delle donne? Ma, violenza e discriminazione, in generale, sono temi che mi sono molto cari, in quanto le possiamo rintracciare un po', non solo nell'ambito, appunto, delle, parliamo di donne, ma un po' in generale, quindi, quando si può tentare di arginare o di sensibilizzare, io ci sono, quindi, per quello, andiamo, cercherò di dare il massimo, in questo caso. Il mondo dello sport, secondo te, discrimina ancora le donne? Ma, in alcuni ambiti, in alcuni sport, più di altri, secondo me, e, ovviamente, si stanno facendo tanti passi in avanti, le cose si muovono, nel 2015 è molto meglio di qualche decennio fa e speriamo di, insomma, di migliorare sempre di più sotto questo punto di vista, perché, ecco, le donne e gli uomini, come tutti quanti, possono fare sport allo stesso modo. E quali sono le sport, secondo te, più... gli ambiti in cui si discrimina di più, tu hai detto dipende dagli sport, no? Ma, io, parlando di esperienza personale, il nuoto non c'è, ormai siamo uomini e donne, sono uguali, insomma, per altre discipline, una bella squadra di calcio femminile che vince i mondiali, non sarebbe male, dai! Secondo te, lo sport, rispetto a questi temi, cosa puoi insegnare? Io ho sempre fatto sport fin da quando ero piccola e, parlando proprio della mia esperienza personale, ho sempre capito che lo sport è per tutti e mette tutti sullo stesso piano, quindi in ogni campo può insegnare molto. E grazie allo sport ho capito che possiamo davvero farcela tutti allo stesso modo e, in questo caso, direi che potrebbe insegnarci che uomini e donne, che persone disabili e normodotate, ma chiunque, è uguale agli altri e ha gli stessi diritti. Rispetto invece al tuo pezzo, no? All'interno dei monologhi, cosa ti ha colpito? Cosa ti è piaciuto? Io non porto gonne corte, ma perché adoro i pantaloni e spesso sto volentieri in abiti più comodi, però, in questo caso, dalla prima volta in cui l'ho letto, mi ha trasmesso un'energia particolare, perché la forza di dimostrare la femminilità senza paura è un diritto che devono avere le donne, non devono mai avere paura di essere donne, non essere qualcosa di simile all'uomo per essere accettate. Le donne devono e hanno il diritto di dimostrare che sono donne in quanto tali. E questo mi ha colpito molto. Grazie. Grazie. Grazie.